Allora questo video è dedicato a tutti quelli che dicono che sono un tappo montato Innanzitutto vi montate i mobili e non me Secondariamente non sono un tappo, sono diversamente alto Poi questo gesto che faccio sempre nei video di stamano non è un tic nervoso Ma è un boncherino che mi son piantato per spingere di più in panca piana E infatti guardate che risultati al petto di pollo Guardate come sono bello, figo e attraente E voi seduti grandi cornuti e le vostre ragazze sono tutte cagni Ciao